Il modulo documenti ti consente di creare e gestire ordini di acquisto in modo rapido e intuitivo. Clicca su Crea ordine di acquisto dal menu in alto a sinistra. La compilazione del documento è del tutto simile a quella di una fattura elettronica, sia a livello grafico, sia di dati da compilare. Ricorda che in questo caso l'ordine è rivolto ai tuoi fornitori. La Data documento è automaticamente impostata dal sistema alla data del giorno di creazione dell'ordine. Se vuoi cambiarla, clicca sul calendario e imposta la nuova data. Può essere antecedente o successiva. La Data evasione, richiesta dell'ordine, è facoltativa. Se la compili, potrai richiederla al tuo fornitore. Il sezionale è fisso e non è modificabile. Su Progressivo, il sistema imposta la numerazione progressiva automatica prevista dal sezionale. Da Dati fornitore, puoi ricercare uno specifico fornitore salvato in anagrafica, digitando il nome nell'apposito campo, oppure cliccando su Ricerca fornitore e poi selezionando quello corretto in elenco. Per creare un ordine di acquisto destinato ad un fornitore non ancora presente in anagrafica, clicca su Aggiungi nuovo fornitore e compila i campi visualizzati. In questo caso, sarà obbligatorio salvare il fornitore in anagrafica. Nella sezione al centro della schermata, inserisci Prodotti o servizi all'ordine di acquisto. Le modalità sono simili a quelle dell'inserimento di prodotti e servizi in una fattura, ma non potrai selezionare i prodotti salvati sul pannello, in quanto utilizzerai denominazioni e codici dei prodotti del tuo fornitore. Compila il campo Discrizione in corrispondenza della riga di prodotto. Puoi modificare tutte le voci visualizzate. Se inserisce uno sconto o una maggiorazione, sarà applicato al solo prodotto presente nella riga interessata. Dal menu a rotella, puoi modificare il prodotto o servizio, duplicare o eliminare la riga ed inserire dati aggiuntivi ai prodotti. Cliccando su Documenti correlati, potrai inserire i riferimenti di documenti legati all'ordine che stai creando. Puoi inserire Allegati all'ordine di acquisto, abilitando un'omonima sezione, o applicare un arrotondamento, o uno sconto o una maggiorazione. Inserisci, se necessario, anche la causale del documento. Compila i dati pagamento tra quelli disponibili su Metodo di pagamento. Il pannello contiene un elenco di quelli più usati e già censiti a sistema. Per inserirne di nuovi, clicca su Aggiungi nuovo. Le condizioni di pagamento vengono inserite in automatico in base al metodo di pagamento selezionato. La ripartizione delle rate viene calcolata automaticamente in base a quanto inserito nell'ordine di acquisto. È possibile personalizzare gli importi, il metodo di pagamento e la data per ogni singola rata. Clicca su Prosegui e compila i dati aggiuntivi richiesti, ad esempio Banca, se ne è necessario l'inserimento. Durante la compilazione, puoi vedere tutti i calcoli aggiornati automaticamente dal sistema. Per disabilitare il calcolo automatico, rimuovi il flag in corrispondenza della voce in alto. A questo punto puoi salvare l'ordine di acquisto sull'omonimo menu cliccando su Salva. Il documento sarà salvato in stato completo se sono stati inseriti tutti i campi obbligatori o in completo se mancano uno o più dati obbligatori, ad esempio Fornitore o Metodo di pagamento. Per inviare un ordine di acquisto per email al fornitore, clicca su Salva e invia. Se hai attivato su Impostazioni il server SMTP per inviare le mail dal tuo indirizzo di posta, vedrai il template personalizzato che hai scelto. Il mittente delle mail è l'indirizzo di posta configurato e non sarà modificabile. Puoi comunque sempre personalizzare l'oggetto e il testo delle mail. Se hai salvato un indirizzo email per il fornitore in anagrafica, lo vedrai già inserito su Destinatari. Puoi inserire anche altri due destinatari delle mail. Se non hai configurato il server SMTP posta in uscita per invio email, l'email avrà come mittente e no-reply-fatturazione-elettronica.aruba.it e verrà utilizzato il modello predefinito. Anche in questo caso potrai indicare fino a tre destinatari cui recapitare l'ordine di acquisto.